questa sera ospite della hockey stube è johannes bernard ciao johannes senti tu sei nuovo arrivi da caldaro quest'anno alla tua prima stagione a merano raccontaci un po come ti sei trovato con i compagni con la squadra insomma qui a merano sì sono arrivato l'anno scorso ho giocato enia e dopo sono arrivato a merano il primo elemento mi ha piaciuto molto perché tutti i ragazzi sono bravi c'è un bel gruppo dopo l'elemento sono arrivato a casa dove mi era troppo bello qua per andare a marano a giocare quindi sei già entrato a far parte e con tutte le forze di questa hockey club merano pierker sei uno di noi e allora brindiamo johannes a questo merano che sia un merano vincente forza ma lana ciao ciao Grazie a tutti.